o problema in qualsiasi campo, non rimandare perché il tuo caso è importante e puoi risolverlo subito solo con la competenza assoluta di Letterius che da anni è conosciuto per la sua serietà e per aver risolto molteplici casi con successo. Se vuoi risolvere immediatamente il tuo problema puoi telefonare per fissare un appuntamento più vicino alla tua città 335-6592-908 Riceve in qualsiasi parte d'Italia e anche all'estero. Letterius è l'altra faccia della realtà, professionista dell'alta magia e ovunque riscuote successo e fama internazionale perché si dedica al suo lavoro con onestà e passione. La sua infinita potenza ed energia possono essere decisive per la tua vita. Ti indicherà la via più giusta per raggiungere la serenità in amore, affari, con i tuoi figli. Il maestro Letterius prenderà in considerazione il tuo caso e saprà darti il consiglio più appropriato per risolverlo. Mentre stai vedendo questo filmato, Letterius è nella tua città. Contattalo se vuoi immediatamente, non perdere tempo. 335-6592-908 Per casi importanti, interviene a domicilio. Riceve nelle principali città d'Italia. 335-6592-908 Naturalmente tutti gli appuntamenti presi dall'operatore dell'Occulto Letterius sono riservatissimi. 335-6592-908 Il maestro Letterius, per ogni tuo problema in amore, lavoro, ti darà un appuntamento nella massima riservatezza. Tuo figlio è cambiato? È ribelle? Ti preoccupa il suo stato d'animo? Non disperare. Letterius, il maestro, può riportarlo alla serenità. In questo periodo, mentre sta andando in onda questo filmato, è proprio nella tua città. Puoi contattarlo e parlare direttamente con lui, fissando un appuntamento. 335-6592-908 Lo scopo del maestro Letterius è di rivelare verità nascoste che sono dentro di noi. Di portare luce nella nostra vita, serenità, successo, di consigliare e guidare e soprattutto di annientare l'invidia e tutto il male che spesso ci circonda. E da soli non siamo.